bene buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento con questo nuovo nuovo format di comunicazione che biomeria ha recentemente lanciato che si chiama personal duet io sono sempre davide ricognello per chi non ha avuto modo di vedere gli altri post che abbiamo fatto sono responsabile dell'attività di marketing per biomeria italia nell'ambito farma health care e cosmetico per questo secondo appuntamento ho il piacere di avere qui con me la dottoressa maria luisa nolli che io considero essere la fautrice di quello che chiamo il movimento culturale nell'ambito red biotech qui in italia quindi delle biotecnologie applicate alla salute benvenuta maria luisa grazie buongiorno a tutti e due parole su di te per quei pochi che non ti conoscono allora mio sono biotecnologa in particolare biotecnologa cellulare da da sempre e ho lavorato nell'industria multinazionale occupandovi dei farmaci biotecnologici di prima generazione molto dei quali oggi sono eh biosimilari e sviluppando appunto new biological entities come anticorpi monoclonali e proteine ricombinanti ehm ho poi mh fondato e sviluppato una mia azienda a rete international dal di cui sono stata amministratore delegato eh dal 2000 al 2012 che è stata una delle prime aziende in italia che ha avuto ehm impianti di produzione autorizzati da AIFA sia per produzione di cellule per terapie avanzate che di anticorpi monoclonali e proteine ricombinanti per la sperimentazione clinica nell'uomo e dopo la vendita di areta ho fondato una società di tech transfer che si chiama ncnbio di cui sono appunto ehm l'amministratore delegato oggi e che è una società che ehm aiuta le aziende e i centri di ricerca a sviluppare ehm le idee farle diventare progetti progetti in prodotti nell'ambito delle biotecnologie della salute. Sono professore universitario a Pavia e insegno eh nel corso magistrale di biotecnologia di biochimica industriale insegno proprio la eh tutto questo percorso di dei di questi farmaci biotecnologici innovativi dall'idea fino all'entrata in mercato. Grossissima esperienza, complimenti, un percorso un percorso veramente invidiabile. Veniamo a noi Maria Luisa, la prima domanda che mi sento di farti, io non a caso lo ribadisco, ritengo che tu sia una veramente delle promotrici qui in Italia di questo movimento culturale sul sulle biotecnologie applicate alla salute. Ecco, in due parole, Italia, biotecnologie. dove siamo? Soprattutto quando parliamo di salute e che cosa manca? Allora l'Italia ha delle eccellenze nella nella parte eh diciamo dello iniziale dello sviluppo di di prodotti biotecnologici applicati alla salute. Eh noi abbiamo centri di ricerca di eccellenze, abbiamo ricercatori veramente in gambissima che hanno eh conosciuti internazionalmente e anche centri di ricerca dove dove si sviluppano queste idee per farle diventare progetti. Il problema dell'Italia è che tutte queste cose sono a macchia di leopardo. Non c'è un network eh molto diciamo diffuso e e e quindi quello ehm quello che ma network industriale molto diffuso. Per cui quello che manca eh sono proprio sono proprio degli investimenti a favore della eh diciamo della creazione e dell'implementazione di centri di produzione di questi di questi farmaci. Sia quelli eh biotecnologici che io chiamo consolidati come gli anticorpi e le proteine ricombinanti sia sia per per farmaci eh di nuovissima generazione quelli più rivoluzionari che sono le terapie avanzate. C'è parecchia strada da fare quindi. C'è parecchia strada da fare sì. Ecco hai hai citato giustamente tecnologie quindi grosse intelligenti che lavorano ma anche sviluppo ecco da un punto di vista di tecnologie a tuo avviso oggi che cosa di che cosa avrebbe bisogno quindi eh l'industria per poter sviluppare nel modo più corretto possibile tutto questo know how ed expertise relativo al red biotech? Ma le le tecnologie che che servono oggi sono ehm distribuite lungo tutta la filiera di sviluppo di questi farmaci e vanno da tecnologie eh di analisi perché non dimentichiamo eh che l'analisi l'analitica è una delle eh diciamo dei 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 settori più importanti di chi produce perché se io non ho dei test analitici che siano ehm che siano robusti eh adeguatamente sensibili quantitativi per andare a monitorare la mia produzione come se non avessi prodotto niente. Quindi test analitici che già sono sofisticati e sempre più sempre più all'avanguardia eh per andare proprio a eh monitorare la produzione ma anche per andare a ehm validare quello che è il prodotto che io che io ehm vado a produrre. E poi e poi tecnologie riguardanti proprio la produzione. La produzione che non può essere più la produzione di un tempo con grossi impianti fatti da da bioreattori o fermentatori in acciaio ma deve essere una produzione eh più versatile, più flessibile proprio per adeguarsi anche alla al tipo di sperimentazione clinica di questi nuovi farmaci. Quindi eh e il tutto il tutto ovviamente ehm diciamo coordinato eh da da una eh diciamo un digitale che sia all'altezza all'altezza di mh di queste nuove tecnologie. Anche qui c'è strada da fare quindi parecchia no ma mi piace perché è un mercato aperto secondo me dove c'è bisogno di veramente implementare innovazione, nuovi mindset, approcci diversi, stiamo parlando di qualcosa veramente bello e sfidante per noi. Ecco. A proposito di sfide eh Maria Luisa eh ormai ci conosciamo da diverso tempo è anche membro dell'advisory board di Biomerie che è stato recentemente, che è nato recentemente quindi mi sento in maniera molto aperta di chiederti un consiglio eh che tu in qualità di Key Opinion Leader ti senti di dare a Biomerie come azienda partner che sta approcciando questo questo nuovo mondo. Eh penso che allora il essere diciamo attenti a alla eh essere attenti alla a quello che è tutto il mondo dell'analitica eh sia importantissimo oggi perché perché sappiamo come ho detto prima quanto quanto importante eh eh poter poter andare a mh caratterizzare caratterizzare il prodotto che io che io produco e la caratterizzazione proprio per avere successo non solo mh nell'emissione in mercato ma anche prima nella in tutto quello che è la sperimentazione clinica nell'uomo ha un diciamo a è un fattore determinante quindi eh avanzare sempre di più in tutte quelle che sono le tecnologie ehm sia eh sia di test fisico-chimici che di test biologici eh eh è molto importante tenendo presente che siamo di fronte ad un tipo di medicina che è passata e sta passando dalle piccole molecole che esisteranno sempre per carità non è che scompariranno ma che sta andando verso farmaci basati sulle cellule o o o basati sulle cellule oppure eh che hanno le cellule come sorgente eh sorgente loro per cui quindi l'analitica da mh sicuramente e poi vedere proprio di agganciare tutti quelli e tenere uniti tutti quelli che sono gli step di sviluppo di eh di di sviluppo di questi di queste tipologie di farmaci. Agganciati cosa vuol dire? Vuol dire avere la coscienza di poter intervenire su ciascuno degli step. Quindi perché noi sappiamo io insisto sempre la mia è una società di technology transfer io insisto sempre sul fatto che esistono diversi tipi di technology transfer a seconda della eh a seconda dello step di sviluppo di questi farmaci e poter intervenire in ciascuno di questi step sia con le tecnologie analitiche sia con le tecnologie a supporto della produzione può essere vincente perché molto spesso vedo che le le compagnie che sono fornitori di servizi per l'industria farmaceutica e biotech lavorano ancora a silos. Oggi non si può più lavorare a silos. Quindi occorre avere proprio un fil rouge che attraversa tutti questi step. Quindi anche in questo caso fa il pari con quello che dicevi all'inizio cioè è necessario anche da parte di chi si propone come partner eh di questa tipologia di di industria essere in grado di comprendere bene quelle che sono le specifiche necessità come sta evolvendo il ciclo e i cicli produttivi e soprattutto di come le soluzioni si debbano adattare a questo a questo nuovo trend quindi recepiremo senz'altro questi questi consigli. Maria Luisa io ti ringrazio per la tua disponibilità e il tempo per questa piccola chiacchierata ne avremo sicuramente delle altre che diffonderemo perché è importante come ci siamo più volte detti fare cultura su questo nuovo eh mondo che si sta aprendo sempre più anche qui in Italia di questo siamo molto contenti. Io approfitto per salutarti ringraziarti e per darti appuntamento visto che sei membro del nostro advisory board al prossimo advisory board meeting che si terrà alla fine di settembre qui a Milano. Ancora grazie per il tuo tempo. Grazie Maria Luisa. Buona giornata. Ringrazio voi e faccio i complimenti per questo tipo di iniziativa che mi sembra molto molto efficace. Grazie, grazie.